novena al bambino gesù quarto giorno nel nome del padre e del figlio e dello spirito santo amen sequenza allo spirito santo vieni santo spirito manda noi dal cielo un raggio della tua luce vieni padre dei poveri vieni datore dei doni vieni luce dei cuori consolatore perfetto ospite dolce dell'anima dolcissimo sollievo nella fatica riposo nella calura riparo nel pianto conforto o luce beatissima invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli senza la tua forza nulla nell'uomo nulla senza colpa lava ciò che sordido bagna ciò che arido sana ciò che sanguina piega ciò che rigido scalda ciò che gerido drizza ciò che è sviato dona i tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni tona virtù e premio dona morte santa dona gioia eterna amen vieni o spirito creatore vieni o spirito creatore visita le nostre menti riempi della tua grazia i cuori che hai creato o dolce consolatore dono del padre altissimo acqua viva fuoco amore santo crisma dell'anima dito della mano di dio promesso dal salvatore irradia i tuoi sette doni suscita in noi la parola si luce l'intelletto fiamma ardente nel cuore sana le nostre ferite col balsamo del tuo amore difendici dal nemico reca in donna la pace la tua guida invincibile ci preservi dal male luce ed eterna sapienza svelaci il grande mistero di dio padre e del figlio uniti in un solo amore amen manda il tuo spirito e sarà una nuova creazione e rinnoverai la faccia della terra preghiamo o padre che nella luce dello spirito santo guidi credenti alla conoscenza piena della verità donaci di gustare nel tuo spirito la vera sapienza e di godere sempre del suo conforto per il nostro signore gesù cristo tuo figlio che è dio e vive e regna con te nell'unità dello spirito santo per tutti i secoli dei secoli amen credo simbolo apostolico io credo in dio padre onnipotente creatore del cielo e della terra e in gesù cristo su unico figlio nostro signore il quale fu concepito di spirito santo nacque da maria vergine patì sotto ponzio pilato fu crocifisso morì e fu sepolto discesa agli inferi il terzo giorno risuscitò da morte salì al cielo siede alla destra di dio padre onnipotente di la verrà giudicare i vivi e morti credo nello spirito santo la santa chiesa cattolica la comunione dei santi la remissione dei peccati la risurrezione della carne la vita eterna amen quarto giorno o santo bambino gesù che sei venuto nel mondo ti sei fatto uomo come noi per riconciliare l'uomo con dio per rinnovare l'alleanza e fondare la chiesa nuovo regno di dio ti supplichiamo di continuare anche ora estendere il tuo regno nel mondo fra i popoli che ancora non ti conoscono e perché questo regno si attui sempre più in noi assistici nelle nostre necessità fa o gesù che amiamo coloro che è posto la guida del tuo popolo tu che vive regni con il padre e lo spirito santo nei secoli dei secoli amen padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga al tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo i nostri debitori e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male amen ave o maria piena di grazia il signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte amen gloria al padre al figlio e allo spirito santo come era nel principio ora e sempre nei secoli dei secoli amen santo bambino gesù benedici ognuno di noi e concludiamo questa nostra preghiera tracciando su di noi il segno della croce nel nome del padre e del figlio e dello spirito santo amen regine della pace prega per noi e allora è la forma di noi